Oroscopo del giorno, giovedì 16 marzo 2017. Toro. La vostra mente è in cerca di soluzioni. Lavoro, mantenete la calma e abbiate pazienza. Pian piano riuscirete a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati. È solo questione di tempo. Cancro. Amore, oggi saranno favorite le relazioni di cuore e vi getterete tra le braccia del partner come non facevate da tempo. Risentirete la trazione e la passione accenderà il vostro animo. I single saranno attraenti e faranno nuovi incontri, magari c'è in arrivo lamore. Lavoro, se lavorate in team sarete ben inseriti e porterete avanti tutto senza difficoltà. Date prova di essere all'altezza di ogni compito. Leone. Amore, se siete in coppia dovrete risolvere presto qualche dubbio che vi tormenta. È il minimo che potete fare per salvare una storia a cui tenete davvero. Per i singoli il ritorno di una vecchia fiamma li farà sognare, ma riflettete bene prima di dire sì. Lavoro, oggi avrete tante occasioni giuste per fare carriera. Ma non saprete farne tesoro. Se avete qualche progetto fatevi avanti e proponetevi. Virgine. Amore, la vostra stanchezza oramai non ha limiti e non avete mai tempo per la vostra metà. Non lamentatevi se poi il partner si concede qualche scappatella. Giornata pesante per i single che dovranno dividersi tra tanti appuntamenti, comunque sarete in forma. Lavoro, sul piano professionale le cose si mettono bene e sarete tentati di accelerare per raggiungere i vostri obiettivi. Bilancia. Amore, siete particolarmente stanti ma non per questo dovete trascurare il partner. Se ancora non lo avete capito, dipende da voi dare una mossa alla vostra storia. I single saranno impegnati a conoscere nuovi amici molti simpatici e intraprendenti. Lavoro, giornata abbastanza appagante per il lavoro anche se non siete contenti di alcune cose. Se volete adulazioni dovete attendere. Scorpione. Amore, le vostre incertezze rischiano di fare crollare il vostro castello incantato. Se avete dubbi sulla persona del cuore chiedete un dialogo e arrivate ad un accordo. I single dovranno lottare per qualcosa a cui tengono molto, non rinunciate e andate avanti. Lavoro, coltivate i vostri progetti e vedrete che prima o poi qualcosa nascerà. Non arrendetevi dopo tante fatiche, non sarebbe il caso. Sagittario. Amore, farete fatica a tenere sotto controllo passione ed entusiasmo e oggi tutto vi sembrerà positivo. Anche qualche piccola incomprensione di coppia non vi farà perdere il sorriso. Anche per i single le stelle sono a favore e sono in arrivo novità esaltanti. Lavoro, sarete in competizione con qualcuno e cercherete di rendere il massimo. Nonostante qualche piccolo screzio, il clima lavorativo non è male. Capricorno. Amore, se date volete sempre ricevere, e anche in amore ragionate sempre alla stessa maniera. Pazientate prima di prendere decisioni drastiche, potreste pentirvene. I single saranno orientati a cercare l'anima gemella, oggi potranno incontrare qualche persona speciale. Lavoro, risolvete qualche dubbio che vi preme ma non perdete di vista la vostra meta. Coltivate certe amicizie se volete arrivare in alto. Acquario. Amore, rivolgete più attenzioni al partner e organizzate una serata romantica per ricordargli che ci siete sempre. Ogni tanto è necessario rinfocolare la passione e il desiderio. Oggi è unottima giornata per i single che potranno fare interessanti incontri. Lavoro. Il lavoro non si prospetta pieno di impegni ma cercate di mettere in movimento alcuni progetti per animare una situazione quasi statica. Il lavoro non si prospetta pieno di impegni ma cercate di mettere in movimento alcuni progetti per animare una situazione quasi statica. . .